900 buonaccorsi, le radici e il viaggio. 7 dicembre 2014 apriamo le sale di arte moderna a Palazzo Buonaccorsi a Macerata e raccontiamo uno straordinario periodo artistico. Quel movimento di giovani intellettuali, artisti che a Macerata nel 900 hanno saputo dialogare con la grande ricerca nazionale e internazionale. Un nome su tutti, Ivo Pannaggi. Da loro abbiamo ereditato la visionarietà, quella stessa visionarietà che oggi ci spinge ad aprire un nuovo museo per dedicarlo a loro. Il viaggio continua. 900 buonaccorsi, il bene e il bello. Aprire le sale moderne ai musei civici di Palazzo Buonaccorsi è un evento straordinario di cui essere orgogliosi. L'Italia ha un grandissimo patrimonio artistico, di valore universale. Scegliere di conservarlo, di raccontarlo e di farne un museo è un atto coraggioso, un atto di fiducia nel bene e nel bello. 900 buonaccorsi è anche questo.